...segna la storia, l'intervento casca proprio a fagiolo direi, perché io faccio l'archeologo. Vi chiederete cosa fa un archeologo oggi qua? Si parla di lavoro, che ci fa un archeologo? Ebbene, perché io voglio portare il mio contributo come lavoratore... Si sente? Lavoratore nel campo dei beni culturali. Dico perché ci faccio, cosa ci faccio qua io? Perché molto spesso, molto spesso, succede troppo spesso, quando qualcuno mi chiede che mestiere faccio, mi chiede che cosa faccio, non considerano un mestiere il mio mestiere, lo considerano una perdita di tempo, un passatempo. Devo stare proprio vicino al microfono allora, accidenti. Un passatempo per benestanti o per gente che non ha altro da fare, come ad esempio pittori, scultori, insomma, lavoratori nel cosiddetto sfigatissimo campo dei beni culturali.